Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Mi chiamo Anna Spertini, sono un'insegnante, insegno ai bambini e agli adolescenti e ho trascorso gli ultimi cinque mesi della mia vita a studiare le microespressioni facciali e le emozioni ad esse correlate. Ecco questa per esempio è un'espressione di gioia sincera, questa invece è l'espressione che fanno i miei conoscenti quando dico loro come ho trascorso l'estate. C'è un certo disagio e anche una certa impressione perché effettivamente le microespressioni facciali sono spesso correlate e associate allo smascheramento delle menzogne, questo anche grazie a un telefilm di qualche anno fa. Ma non sanno le persone che applicando queste tecniche a un altro settore come quello didattico siamo in grado di ottenere una comunicazione maggiore con gli studenti e anche una maggiore consapevolezza di se stessi. Sono anche una mamma. Mio figlio si chiama Alessandro a nove anni e studia il violino con il metodo Suzuki. Il metodo Suzuki è un metodo innovativo nell'insegnamento della musica universalmente riconosciuto e è chiamato anche metodo della lingua madre. Fu creato nel secolo scorso da Shiniki Suzuki che è un violinista insegnante giapponese e il fondamento principale di questo metodo è che tutti possono apprendere dal loro ambiente. Quindi quando crei l'ambiente giusto e stimolante stimoli anche le stesse situazioni nello studente e così favorisci l'apprendimento. Condizione essenziale del metodo Suzuki è la partecipazione di almeno un genitore nel percorso di studio e infatti il successo di ogni programma Suzuki sta proprio nella buona qualità di questo cosiddetto triangolo Suzuki che è formato dalla relazione di collaborazione tra insegnante, genitore e bambino. Ecco questa è una classe di violino della scuola Suzuki di Siena. Il maestro di violino di mio figlio si chiama Alessio Nakuzzi e invia solitamente diverse email ai genitori per supportarli nel loro ruolo di genitori Suzuki e per aiutare i loro figli appunto nell'apprendimento del violino a casa. La primavera scorsa Alessio invia una mail a tutti i genitori che tra le altre cose contiene un link al sito web di Paul Ekman. Paul Ekman è un ricercatore che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca delle microespressioni facciali e delle emozioni ad esse correlate. Vado a visitare il sito web e vedo subito che all'interno c'è una grandissima quantità di informazioni interessanti non solo per il lavoro che svolgo ma anche come mamma per aiutare mio figlio con lo studio del violino. Il materiale è tantissimo ed è anche abbastanza costoso quindi chiedo ad Alessio se è possibile condividerne la spesa. Alessio accetta e così condividiamo anche i momenti di studio. Trascorriamo l'intera estate a studiare e arriviamo a fine estate che riusciamo a conseguire il Fax Coders Certificate. Questo è un certificato che viene solitamente conseguito da persone che poi vanno a collaborare come esperti con la polizia o con il tribunale ma noi vogliamo applicarlo alla didattica perché siamo convinti che potrà darci risultati sorprendenti. E in questo frangente conosco anche meglio Alessio. Conosco alcuni dettagli della sua vita e come è arrivato a Siena e scopro così che come Paul Ekman ha dedicato tutta la sua vita allo studio delle microespressioni facciali, Alessio ha dedicato tutta la sua vita non soltanto alla musica e al violino ma anche alla ricerca di un metodo didattico unico nel suo genere. Immaginatevi infatti di prendere diversi strumenti e tecniche di comunicazione usate solitamente in settori di nicchia e di applicarli alla didattica. L'effetto è immediato. Tra insegnante e studenti si crea una comunicazione e un'empatia profonda. I risultati vengono raggiunti in tempi molto più rapidi e con un benessere di fondo stabile. Il maestro Alessio Nacuzzi è convinto che sia possibile tramite l'utilizzo di diversi metodi come il metodo Suzuki, il mental training, l'NLP coaching, il metodo Feldenkrais, il lab profile, riuscire a ottenere una situazione per la quale nel momento della performance e quindi del concerto, dell'esecuzione, il bambino sia in una situazione di zero stress e quindi benessere di fondo stabile. Molte università straniere e italiane si sono rivelate interessate alla ricerca di Alessio. Tra queste anche Royal College di Londra e ovviamente anche il Polekman Group che ci ha donato parte del materiale di studio. E allora il passaggio è come facciamo per definire il livello di stress nei bambini? Esiste un test semplice affidabile che si chiama test del cortisolo salivare. Consiste nel prelevare un piccolo campione di saliva dal soggetto nel momento della performance e quindi in questo caso del concerto per misurare appunto la quantità di cortisolo. Quando questo ormone che viene prodotto dalle gheandole surrenali è presente in quantità elevata indica una condizione di stress. Alessio Nacuzzi nei suoi anni di esperienza ha applicato proprio questo metodo su tanti bambini, i suoi studenti e ha visto che effettivamente si può applicare, si può fare e i risultati ci sono. Io sono una testimonianza entusiasta di questo perché ho visto che mio figlio soltanto dopo due anni di studio del violino è ora in grado di suonare a memoria più di 50 pezzi tra cui anche pezzi molto complessi e quindi pensate un po' come potrebbe essere applicare un metodo di questo genere anche ad altre materie tipo la matematica, la storia, le lingue straniere. Avremmo modo finalmente di dare la possibilità ai nostri figli di trarre il massimo vantaggio da questo aspetto dell'apprendimento che li accompagnerà per tutta la loro vita. E arriviamo così all'espressione di gioia sincera che vi ho mostrato all'inizio. Immaginatevi i vostri figli felici di imparare e fortemente motivati a farlo. Immaginatevi anche la vostra di felicità quando realizzerete ciò che avete fatto per loro. Grazie. Grazie.